Grazie a tutti. I tassi a breve vanno su, oggi guardiamo il rendimento dei titoli di Stato americani a 5 anni, altro spike verso l'alto che ha portato nuova tensione sui cambi, dollar index più 0,38, un nuovo massimo di periodo. Guardiamo la figura allargando il quadro, vedete questo è un breakout importante, vediamo dove si fermerà questo rally attualmente in corso, in teoria c'è spazio fino a 97,7, è comunque una figura di inversione importante e chiaramente euro a picco verso 1,11, vi ricorderete che avevamo parlato di questa fascia di supporto su 1,14 che è stata rotta di botto, c'è stato un tentativo disperato, apro un attimo il quadro qui per far vedere meglio, su questa figura di reversal che poi è stata, con la notizia della nomina di Powell, è stata annullata, queste erano tutte posizioni long che sono state probabilmente ribaltate o sono scattati stop molto spesso quando queste figure vengono negate, si alimenta ulteriormente il movimento di discesa perché proprio ci sono gli stop che scattano, quindi oggi abbiamo visto 1,11 anche se 1,11 e 8, siamo ancora un pochino distanti proprio dalla parte più bassa della fascia di supporto, però vi avevo detto che sotto 1,14 non c'era un granché e in effetti così si sta manifestando la situazione, quindi ancora debolezza sui cambi, questo chiaramente ha avuto delle ripercussioni sui preziosi anche se devo dire che l'oro sta dimostrando maggiore tenuta, l'oro chiaramente ha sofferto dopo la notizia della nomina di Powell del picco dello spike al rialzo dei tassi a breve, quindi sono stati due giorni abbastanza pesanti, però oggi la discesa è rallentata, siamo a meno 0,19 e quindi ha tornato a dimostrare resilienza su queste notizie, la stessa che aveva dimostrato in questa fase ai primi di novembre quando in effetti il dollaro stava già iniziando a salire, ma non c'erano segnali di reversal, quindi vedremo ora nei prossimi giorni, molto importante, qui siamo su media 200 e volatility stop line, in questo livello di 1785 per loro è molto importante, tutto il resto in stand by perché poi chiaramente nel pomeriggio Wall Street è passata in modalità pranzo di Thanksgiving, che è una delle festività più importanti negli Stati Uniti con ponte nella giornata di venerdì, la giornata festiva è sempre di giovedì, quindi questo è un lunghissimo weekend che parte di fatto il mercoledì pomeriggio, a quest'ora i desk sono già in stato di abbandono, infatti possiamo vedere, questo è lo spike, tutti gli indici oscillano intorno alla parità e sono tutte candele di fatto inside rispetto al range di ieri, vediamo il Nasdaq, anche il Nasdaq è il range di oggi all'interno di quello di ieri, guardate i volumi bassi, proprio perché è normale che già dal mercoledì pomeriggio si svuotino i desk, Dow Jones lo stesso, volumi bassi e siamo all'interno del range di ieri, quindi non disturbare per il momento, almeno il mercato equity, ora non so in effetti se nei prossimi giorni ci potranno essere sorprese perché comunque la volatilità si mantiene elevata, il VIX ora sta facendo meno 2,4, però oggi guardate ha fatto uno spike verso l'alto durante la pubblicazione dei dati, proprio perché comunque le tensioni sui tassi portano volatilità sull'S&P e quindi nei prossimi giorni vedremo, perché comunque il mercato dei future, soprattutto nella giornata di venerdì, comunque sarà aperto mezza giornata, e quindi vedremo se ci saranno sorprese che possono venire dal resto del mondo, perché comunque è vero che l'America è chiusa e che gli mercati americani, soprattutto gli azionari, ecco l'azionario americano rappresenta il 60% del mercato mondiale, però c'è l'altro 40% che continua a rimanere aperto, di DAX meno 0,37, una specie di hammer fatto proprio sulla volatilità stop line, quindi sembra aver trovato supporto qui in area 15,8, comunque la secondo giorno che andiamo al di sotto di 16.000, quindi questo segnale di rientro sotto le vecchie resistenze è un segnale tecnico negativo, vediamo se verrà confermato, se riuscirà a chiudere la settimana al di sotto, possiamo togliere la figura, questa qui il calcolo di 1,272, che era il target di questo movimento rialzista, che è stato mancato di poco, però diciamo virtualmente è stato raggiunto, quindi puliamo un po' il quadro dai vecchi disegni, e prepariamoci ecco ad assistere alla nuova situazione, guardiamo i volumi, questo è il DAX, il future sul DAX, passo al future per guardare i volumi, per farvi vedere la differenza, vi ricorderete quando vi dicevo la salita, ecco si sale per le scale e poi si scende con l'ascensore, classico esempio, in tre giorni ci siamo fatti il range di due settimane, quando si saliva con i volumi bassi, vi dicevo attenzione, prudenza, perché qua c'è poca convinzione, ecco invece qui l'attività è aumentata, quindi continua ad aumentare, assistiamo, guardate dall'ombra bassa di queste candele, ad acquisti sui minimi, però ogni volta che poi questi minimi vengono violati, guardate a ripetizione, poi probabilmente scattano anche degli stop, quindi è interessante vedere ora nei prossimi giorni come evolve questa situazione, perché il comportamento in questo momento è diverso rispetto a quello del recente passato, il DMI negativo ha incrociato il positivo, quindi si sta impostando una situazione diversa, vorremmo vedere la DX che gira verso l'alto, però un passo alla volta, comunque dal punto di vista delle medie siamo ancora impostati al rialzo, anche se vedete il rientro molto brusco con volumi forti, indica appunto di stare attenti a quello che sarà il test di questo supporto, dove ci troviamo proprio adesso, 15,8 perché poi comunque è a un passo dalle vecchie resistenze, quindi questo può ancora essere interpretato come un test ancorché violento, abbastanza volatile, con alta volatilità dei vecchi livelli, vediamo il V-Stocks, anche esso conferma anche oggi il nuovo massimo relativo, guardate negli ultimi 7-8 giorni abbiamo fatto oggi uno spike a 21, quindi volatilità in aumento anche sui mercati europei, almeno fino a oggi. Fuzzimib più 0,6, del Fuzzimib parliamo ora fra un attimo, perché comunque oggi c'è stata una buona percentuale di rialzo di Enel, che è un titolo che pesa molto, diversi bancari, e poi c'è Telecom di cui parleremo fra un attimo. Solo completo il quadro generale per far vedere il rame, visto che lo stiamo seguendo, negli ultimi giorni, oggi un altro più 1% si è confermata la validità di questo segnale di cui parlavo già due giorni fa, questo bullish engulfing, considerando la seconda candela come prosecuzione della prima, ve lo volevo segnalare perché queste sono figure non comuni, però quando è così si può considerare questo quasi un movimento unico, quindi un bullish engulfing potente che in effetti si sta estendendo. Adesso siamo su delle resistenze di breve, però questo è un altro discorso. Per il momento il rame ha dato seguito, almeno nel breve, alla figura di tre giorni fa. Quindi in analisi tecnica spesso ci dà dei segnali interessanti. Non è l'oracolo, non tutto si verifica alla perfezione, alla lettera, però ci sono le probabilità. Ci sono probabilità che si verifichi, probabilità che certe cose non si verifichino. Allora, no, prima di Telecom solo un'occhiata al petrolio. Ecco, per dire solo che, torno un attimo al daily, perché questa è la candela settimanale, oggi in meno 0,21, siamo ancora qui al test di 79. Attenzione, perché se 79 dovesse essere recuperato verso l'alto, si aprono spazi interessanti verso area 84. Per quello che riguarda il petrolio oggi, a proposito di dati, abbiamo avuto i dati sui rig, sui rig sono i pozzi americani che sono in costante ascesa. In questo momento non ho qui il, vediamo un attimo, no, non ho qui il grafico, lo faremo vedere domani. Comunque questo per dire che anche in America c'è la tendenza a aumentare la produzione, che se ne dica. Comunque dedicheremo un po' più di spazio domani. Veniamo a Telecom, un amico chiedeva di capire cosa stesse succedendo, come dobbiamo interpretare l'attuale situazione. Allora, l'attuale situazione è complessa, ma in realtà è molto semplice. Mi rifaccio a questo articolo di Milano Finanze di oggi. Giorgetti, il ministro del sviluppo economico, ha sottolineato in Parlamento che il governo rimane vigile sulla vicenda perché sono in gioco interessi non solo di team, ma anche del paese. Ma che da KKR, che è il fondo che ha prospettato l'OPA 050, c'è solo una proposta di interesse in questo momento. Quindi è prematuro parlare di Golden Power. Cioè, quindi al di là delle speculazioni, delle parole, delle attese, eccetera. Per il momento non c'è stata ancora una... Cioè, quella che c'è stata in questo momento è stata solo una manifestazione di interesse. Non c'è stata un'offerta formale vincolante. Vivendi ha espresso il parere che l'offerta 0,50 è bassa. Vivendi è l'azionista in questo momento di riferimento a oltre il 20% di Telecom. E quindi ci sono le speculazioni che in realtà se venisse offerto 0,70 forse Vivendi accetta, eccetera. Quindi, allora, qui siamo nel mondo adesso. Qui l'analisi tecnica si fa da parte. Si fa da parte perché tutto quello che accade da ora in avanti ovviamente dipende da fattori esogeni, non da fattori tecnici. Dipende da fattori esogeni di tipo strategico, di tipo commerciale, di tipo industriale, di tipo politico soprattutto. Perché comunque il governo mantiene la Golden Power. Quindi, da qui in poi, le scommesse sono aperte. Io scommetto che viene alzata l'offerta 0,70, Vivendi accetta, il governo accetta, bene, compro oggi, guadagno il 50%. Viceversa, io scommetto che non se ne fa nulla perché il governo non permetterà mai la vendita di Telecom Italia all'estero perché c'è la rete dentro che è di importanza strategica e la rete non può essere scorporata perché una rete di telecomunicazioni non è una rete ferroviaria o una rete di trasporto dell'energia elettrica. È molto più complessa ed è molto più difficile da separare rispetto a tutto il resto del sistema di telecomunicazioni. Quindi, per tutti questi motivi, la teoria è una cosa, le parole sono una cosa, la realtà poi un'altra. Quindi, io scommetto che questa cosa non avvenga, per cui qui mi metto short perché poi da qui torneremo a 0,30. Qua siamo nel gambling, per cui da un punto di vista tecnico io posso solo segnalare, questo è il grafico settimanale, che qui qualcuno sapeva. Qualcuno sapeva perché in effetti nelle quattro settimane precedenti vediamo qui dei bullish engulfing molto interessanti sui supporti in area 0,30 che però da un punto di vista tecnico non erano molto tradabili, come si dice in gergo, operabili, perché non c'è stato il trigger, non c'è stato il superamento, perché normalmente questo tipo di figure di reversal diventano operative al superamento delle resistenze, dei massimi intermedi. Quindi, per parlare pratico, qui dove sono adesso col pointer, area 0,35, alla rottura di 0,35 con volumi, generalmente il segnale tecnico è buono, allora poi si vede un po' lo sviluppo. Qui il prezzo non c'è stato perché ci siamo svegliati la mattina, sì, i volumi sono stati, l'uscita c'è stata, è andato a target direttamente, quindi non c'è stato modo di interagire. Quindi, se queste figure sono originate o da ben informati o da veggenti o da non lo so io, c'erano i presupposti in realtà per un movimento verso l'alto, ma dal punto di vista operativo non c'è stata la possibilità di interagire per i motivi che vi ho detto, perché abbiamo aperto direttamente a target. Tra l'altro Telecom è un titolo che non ha dato molta soddisfazione agli investitori, questo è il grafico settimanale dal 2005 a oggi, se passiamo su scala percentuale, dal 2005 a oggi, incluso il balzo degli ultimi giorni, siamo a un meno 66%, quindi è una situazione che capisco per molti può essere delicata da monitorare, questo è un grafico mensile, non settimanale. Quindi una situazione che chiaramente può porre dei punti interrogativi, soprattutto alla luce del recente andamento, perché malgrado l'andamento positivo dei mercati nel 2021 abbiamo visto Telecom che invece, soprattutto negli ultimi mesi, è ritornata a vedere le aree di supporto, le aree dei minimi storici. Ecco, questo è un po' il quadro, mi dispiace di non poter dire di più all'amico, ma ripeto qui poi l'analisi tecnica si fa un po' da parte perché prevalgono altri aspetti. Va bene, direi è tutto per oggi, lasciate come sempre nei commenti le vostre segnalazioni di situazioni interessanti, grazie per i like, per il supporto che date a tutti e due i canali sia su YouTube che su TradingView, continuate a seguire perché anche se l'America è al pranzo del Thanksgiving, secondo me qualcosa succederà anche nei prossimi giorni. Grazie per l'attenzione e appuntamento a domani. Grazie per l'attenzione e appuntamento a domani.